Ma soprattutto la The Best di oggi per noi e come sempre è Tamara Malleo, buongiorno Tamara! Ciao, buongiorno! Buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano e buongiorno a Fabio e a Lorenzo. Come state? Come è andata questa settimana? Grazie mille, Tami tutto bene. Tu come stai? Bene, molto bene, molto bene. E chiaramente siamo qui per parlare di teatro, ma oggi ho una chicca. Ah, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Di qualcosa che, di una persona che conosci, ma non voglio svelare troppo. Allora, iniziamo subito. Iniziamo subito con un teatro, Teatro del Borgo, che è un teatro che è aperto l'anno scorso in una zona, diciamo, dove non c'era un presidio teatrale, e cioè in zona Palosarpi. Si chiama Teatro del Borgo, è in via Berga 5, angolo via Giusti 29, appunto in zona Palosarpi, ma dico una cosa importante, ha un parcheggio interno, non tutti i teatri ce l'hanno, quindi si può raggiungere. Che in Palosarpi è fondamentale. Esatto, bravissimo, Lorenzo, perché so che è una zona piena di locali per mangiare e si può mangiare, appunto, e poi si può andare al teatro. Il Teatro del Borgo apre la sua stagione il primo e il due dicembre con uno spettacolo molto divertente, affidato a Barbara Bertato e Alfredo Colina, che sono una coppia di comici che lavorano spesso insieme a Binario 7, che in questo caso lo portano in scena quasi come Romeo e Giulietta. Quindi una rivisitazione del grande classico attraverso una visione molto divertente, molto, diciamo così, condita da tante risate, da una visione molto ironica. Quindi ricordiamo, comunque il Teatro del Borgo, io vi consiglio di andare a vedere il sito, ha una programmazione molto ampia, con tantissimi e tantissime artisti e artiste, tra cui vi dico Alice Francesca Redini, che firma un testo, una regia, con due bravissime attrici che sono Elena Scalette e Francesca Gemma, ma ci sono veramente, c'è Ippolita Baldini, insomma, ci sono tantissimi nomi che potete ritrovare, Teatro del Borgo in zona Paolo Sarpi. Quindi ve lo consiglio. E la direzione artistica è di Fabio Zulidi, che è un attore, fa parte della compagnia Oies e porta avanti dei progetti, appunto, teatrali. Secondo appuntamento, invece. Ok, sentiamo il secondo. Il primo andato. Che so che, appunto, diretto da Valentina Pescetto, che so cui conosci. Ah, Fatto del 32, sì, 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 in quel di Barona, intenderci. Sì, è in zona Navigli, diciamo così, metropolitana Romolo, verde, e poi si prende la 47 fino, mi sembra che siano 4-5 fermate, o comunque si può andare anche in macchina, perché anche questo teatro ha un parcheggio, quindi in questo caso si può raggiungere in macchina. Mi piace adesso che è la postilla del parcheggio. Perché ultimamente per me è importante, anche la postilla del parcheggio, e quindi si può arrivare in macchina. E sempre, anche là, 1, 2, 3 dicembre, c'è uno spettacolo molto interessante, questo mondo e quell'altro, di una coppia di artisti che lavorano separatamente, Francesco Brandi e Loris Fabiani, che in questo caso lavorano insieme, hanno già lavorato insieme, ma in questo caso lavorano insieme con la regia di Francesco Brandi. In scena ci sono entrambi, col testo di Francesco Brandi, prodotto da loro, ed è un confronto, diciamo c'è il protagonista Francesco Brandi e Giacomo, che ha 40 anni, si sveglia il giorno del suo compleanno, e parla col suo pupazzo di infanzia, in una specie di esame di coscienza, quindi facendo un viaggio dentro di sé. Francesco Brandi ha scritto tanti testi per strada, è nato postumo, in questo caso torna a un testo molto divertente, per cercare appunto di restituire serenità, insieme a Loris Fabiani, che appunto sta lavorando molto sulla comicità, con un percorso su Lunanzio, che è il suo personaggio che porta in scena nelle stand-up, e insieme cercano appunto di creare questa armonia e questa serenità da consegnare al pubblico, per una visione di fiducia nell'oggi, ma anche nel domani. E quindi ci sono tante risate, perché la scrittura di Francesco Brandi è una scrittura cinica, ma molto divertente, che graffia, che va nella profondità dell'oscurità, ma ci fa risalire attraverso una risata. Quindi, Factory 32, questo mondo e quell'altro. Il terzo consiglio, invece, sia per Lorenzo che per te, è un podcast. È il podcast che si chiama Jugen, ed è di Claudio Garioni, che è un giornalista sportivo di Tele Lombardia, che in realtà ha una conoscenza, una competenza in molti canti, che ha deciso appunto di creare questo podcast, che si chiama Jugen. E Jugen è una parola giapponese, che significa capacità misteriose che non possono essere descritte a parole. E lui, attraverso il coinvolgimento di ospiti vari, parla di cinema, di teatro, di libri, di fumetti, di altri podcast, e ci permette di guardare la realtà attraverso voci diverse e ci fa scoprire anche delle curiosità, ci fa scoprire anche delle, magari, delle nostre passioni sopite che non conoscevamo. Quindi ve lo consiglio come... Jugen con la Y, giusto? Jugen con la Y. Jugen con la Y. Podcast che nell'ultimo anno è sostanzialmente il principale mezzo di informazione. Di intrattenimento, di informazione, eccetera. Ti apprendi tantissimo che il Gario, come lo chiamiamo noi, produce questo podcast, è arrivato veramente da un numero di puntate molto interessanti, con ospiti pazzeschi anche, quindi veramente ascoltatelo. Andrea De Logu, insomma, tanti nomi importanti, ma in realtà... C'è stata Tamara Malleo? No, non c'è stata Tamara Malleo. Beh, allora basta, allora non ascoltate Jugen. Basta, Gaglioni? No, ma fa bene, ma fa bene. Lui prende degli ospiti competenti, importanti, interessanti. Stai dicendo che noi prendiamo ospiti non competenti, allora? No, allora, voi prendete degli ospiti cercando di dargli fiducia. Ah, ok, ok, ok. Hai una grandissima fiducia. Voi ci date spazio per crescere e per imparare. Grazie, perché voi fate questo. Vabbè, tu non hai bisogno di imparare niente, perché sei già benissimo tutto, anzi, sei tu che ci insegni ogni giorno, ogni settimana, davvero delle grandi cose sul teatro. Anche oggi, quindi, due appuntamenti, più a questa chicca molto interessante del podcast Jugen. Tami, grazie, cioè, come sempre... Grazie a voi, come sempre. Però la promessa è che prima o poi mi raccontate voi uno spettacolo che andate a vedere a teatro. Ma io vorrei in realtà che ci andassimo tutti e tre insieme, così almeno... Vabbè, è meraviglioso. Allora, volete che io scelga qualcosa per portarmi a teatro? Per me va bene, per me va benissimo. Per una volta, fai il cavaliere e scegli tu qualcosa, però, nella vita, Lorenzo. Scegli tu qualcosa, stupisci Tamara, allora, stupire Tamara per portare a teatro, che sia la cosa peggia che non la possa fare. Lo dico a tutti i fan che ci scrivono, non... Cioè, prendetela per la gola, fate gli altri... Cioè, una torta, un film, magari, ma sul teatro io mi affiderei. Esatto, esatto. Io mi affiderei, effettivamente. Vabbè, magari andiamo a Factory 32. Eh, adesso so, lo so. Dai, chiama subito Valentina, che la sentiamo e vediamo, andiamo a fare un bel giro a Factory 32. Tamara, grazie mille. Grazie a voi e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci vediamo a teatro, che è sempre un buon, diciamo così, un buon augurio e speriamo di... In questi spazi, ti rubo solo un minuto, in questi spazi, come questo, vostro, ma in generale, appunto, si cerca di parlare di tantissimi temi, ma sempre con grande serenità, con grande coinvolgimento, sperando che possa tutto questo essere utile per tutti noi, per essere più consapevoli, più critici, verso noi stessi, ma anche verso quello che ci circonda, per guardare tutto con il giusto distacco, ma anche la giusta partecipazione. E poi dite che sbagliamo gli ospiti, va bene. Dai, a posto. Grazie mille. Tamara, grazie mille, grazie per il tuo messaggio, grazie per il tuo messaggio, davvero, grazie. Grazie e scusa. Grazie anche scusa, non so, mi viene da dirti così oggi, va bene. Dai, ciao, grazie mille. Grazie mille. Ciao Tamara Malleo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.